Sei stanca delle solite tinte tradizionali che ti regalano un colore anonimo e che ti torturano il cuoio capelluto? Hai i capelli bianchi? Cerchi un modo naturale e delicato per colorarli, ma non sai da dove iniziare? Ciao, sono Rosalia e da 10 anni aiuto le donne a ritrovare la bellezza naturale dei loro capelli grazie alle erbe tintorie. Ricordo ancora la mia prima applicazione di erbe tintorie, un colore meraviglioso, capelli bianchi perfettamente coperti e una chioma più forte e luminosa. È stata una rivelazione. Il colore e la copertura dei capelli bianchi superavano ogni aspettativa. Qualcosa di così semplice e totalmente naturale alla portata di tutte. Eppure l'universo delle erbe tintorie può risultare davvero davvero complesso e iniziare questo viaggio da sola può frenarti perché temi di ritrovarti con un colore terribile oppure semplicemente hai poco tempo da dedicarci per capire da sola come utilizzare le erbe tintorie in modo consapevole e soprattutto con soddisfazione. Ma rispetto a me tu non devi farlo da sola. Hai a tua disposizione tutta la mia esperienza e il know-how che ho acquisito in questi 10 anni e una community affiatata di Enine. Ho creato quindi il servizio di affiancamento di consulenza personalizzata che avrei voluto trovare 15 anni fa quando ho iniziato a utilizzare io le erbe tintorie. Con la consulenza personalizzata riceverai un mix tintorie personalizzato. Analizzeremo insieme il tuo tipo di capello, il colore che desideri e le tue esigenze specifiche. Riceverai anche una guida con indicazioni su come preparare e applicare la tua miscela di erbe tintorie passo dopo passo. Un supporto costante per rispondere alle tue domande e per seguirti nel tuo percorso. Io fossi in te non aspetterei oltre. Su puravvisoicappeli.it puoi acquistare la tua consulenza personalizzata per 15 euro. E la buona notizia è che questi 15 euro ti verranno rimborsati con il tuo primo ordine. Come funziona? Acquisti la consulenza e ricevi via email un link per compilare una scheda dettagliata sui tuoi capelli e l'indirizzo email dove spedire le foto della tua chioma. Non appena riceviamo le foto, io o la mia collega che mi affianca nelle consulenze, ti rispondiamo nel giro di 24-48 ore con tutte le indicazioni necessarie per ottenere la tonalità desiderata. Sempre nel giro di 24-48 ore ricevi una mail separata con il buono sconto di 15 euro, il valore della consulenza, che puoi utilizzare nel tuo primo ordine su curavvisoicappeli.it. In più, restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio tu possa avere post-consulenza tutte le volte che avrai bisogno, fino a quando noterai la tonalità ambita. Sempre, se sarà possibile, perché ci sono anche dei casi. Pronta a provare l'emozione di vedere i tuoi capelli risplendere di una nuova luce e nuove sfumature? Insieme possiamo aiutarti a ritrovare una chioma sana, forte e dal colore unico, rispettando la natura dei tuoi capelli. Non perdere questa opportunità, prenota ora la tua consulenza e inizia il tuo percorso verso capelli più belli e sani.